Gentili telespettatori, buona giornata. C'è stato uno scontro tra la Montaruli, vi ricorda qualcosa, di Fratelli d'Italia, e il direttore, la gioia, dammi una gioia, del Salone del Libro. La Montaruli gridava al direttore del Salone del Libro che praticamente trattava quelli che impedivano al ministro Roccella di parlare come persone che avevano il diritto, che stavano facendo una cosa giusta, li invitava a parlare sul palco, quindi la Montaruli diceva ma lei cosa sta dicendo? Quindi questa Montaruli di Fratelli d'Italia gridava a questo direttore del Salone del Libro dicendogli praticamente quando andrai via applaudiremo, gioiremo, qualcosa del genere. Il Salone del Libro fa quadrato intorno al direttore, chi attacca il direttore attacca l'istituzione. Il punto oggi è che questo direttore si è trattenuto, alla fine non ce l'ha fatta, visto che questa Montaruli lo ha aggredito. Parliamoci chiaro, hanno impedito dei contestatori di parlare alla ministra Roccella. Su questo non c'è dubbio che si tratti di fascismo di sinistra. La contestazione è legittima in una democrazia come la Repubblica Italiana, anzi è un diritto sancito dalla Costituzione quello di contestare, ma cosa differente è impedire a una persona di parlare. Quello è dittatoriale. Quindi non confondiamo il manifestare, il contestare, con impedire a una persona di parlare. Sono due cose differenti. La sinistra e la Schlein stanno dalla parte di chi si è comportato in maniera fascista. Quindi dove sono i nostalgici, mi chiedo io. Chi sono i veri nostalgici? Forse sono quelli che difendono chi cerca e chi impedisce agli altri di parlare. Però io quando ho sentito questa Montaruli che gridava ho detto ma questa non è quella... Allora, il direttore del Salone alla fine dice un qualcosa che farà anche discutere ma forse no, ma forse staranno tutti zitti perché dice ma la ministra sul palco con una pregiudicata non è certo un bel vedere, non è certo un bel presentarsi perché sta dicendo sul palco con una pregiudicata? Chi sarebbe la pregiudicata? Beh, la pregiudicata sarebbe la Montaruli che è stata condannata a se non ricordo bene se quattro mesi di reclusione per aver fatto peculato. Voi direte ma cos'è sto peculato? E peculato è un sinonimo per non dire che ha rubato. Allora, si dice peculato quando tu, ad esempio, ti fai rimborsare delle spese che hai sostenuto che però non sono rimborsabili. Quindi tu presenti delle ricevute quando lei era, mi sembra, in Piemonte nella regione Piemonte come politico ha presentato delle ricevute e si è fatta rimborsare dei soldi. E poi i magistrati hanno scoperto che si era fatta rimborsare dei gioielli di Swarovski delle borse di lusso pranzi e cene con amici corsi di computer di cifre esorbitanti 5-6 mila euro per il corso come tutelare la propria reputazione in internet tipo 5-6 mila euro di corso quindi l'ipotesi è che questi corsi fossero falsi e ci sia stata poi una spartizione tu fammi una ricevuta di sto corso e poi ci dividiamo ci siamo capiti quindi è stata condannata alla reclusione con la condizionale adesso non mi ricordo quanti mesi esattamente quindi quando il direttore Nicola Laggioia parla di pregiudicata parla della Montaruli io quando vi avevo parlato di questo fatto visto che lei è una fedelissima della Meloni mi sarei immaginato mi sarei immaginato una presa di distanza della Meloni invece la Meloni non ha detto né nulla lei non si è dimessa né da parlamentare né nelle sue cariche non si è assolutamente dimessa come se non fosse successo niente come se fosse normale che tu vieni giudicata condannata alla reclusione per aver lo chiamano peculato io lo chiamerei in altri modi peculato io mi sarei aspettato che questa politica sparisse dalla vita dal teatro politico in men che non si dica invece voi come sapete come sapete dopo passa una settimana gli italiani non se lo ricordano neanche più io ho visto che questa Montaruli si è così infervorata al salone del libro e anche come dieci giorni fa in una conferenza era lì che che ci metteva tutta la verve contro adesso non mi ricordo contro chi è un po' come se questa Montaruli volesse far dimenticare quella cosa lì del peculato e volesse far vedere alla Meloni che lei è una super fedelissima che lei è sul pezzo che lei difende l'idea di destra l'ideologia i ministri insomma è un po' come se volesse strafare per cercare di recuperare un qualcosa che realmente è irrecuperabile cioè io spero che la Meloni si sia assegnata si stia cominciando a segnare le persone che nella prossima legislatura non sono da 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 ricandidare però attenzione la Meloni difende sempre i suoi sempre comunque difende i suoi fedelissimi però qua c'è una condanna si è fatta rimborsare gli svaroschi gioielli si è fatta rimborsare dalla regione e sono soldi che i cittadini pagano con le tasse avete capito cioè lei è andata a comprarsi dei gioielli delle borse vestiti e se le fatti rimborsare quei soldi che gli hanno ridato in comune in regione come rimborso sono soldi dei cittadini che hanno pagato con le tasse non so se è chiaro quindi questo Nicola Laggioia il direttore del 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 salone del libro non voleva tirare fuori questa storia però quando si è visto gridare dietro a un certo punto dice ma scusa ma la ministra cosa fa sul palco con una pregiudicata che brutta presentazione insomma gliel'hanno tirate fuori anche se anche se questo Laggioia ha sbagliato nel suo atteggiamento di far sembrare questi contestatori che hanno impedito di parlare come qualcosa di legittimo quindi anche se lui ha sbagliato l'altra probabilmente sapendo quello che è la sua storia non avrebbe dovuto mettersi a gridare e esporsi perché poi la gente ti ricorda chi sei grazie a tutti e arrivederci a presto